Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa oggi parleremo insieme delle radici di Alien ossia le radici della saga di Alien ecco, se pensate che il film Alien con l'astronave Nostromus che ha il primo contatto con un essere alieno sia una buona idea genuina appartorita in una sessione di brainstorming per la creazione di un soggetto da cui estrarre una buona regia di un film di fantascienza ecco, cascate male anche il film Alien che, diciamo, diede l'inizio alla sua propria saga affonda le radici nelle pulp mugs il polpo alieno della saga Alien nasce su Amazing Stories del gennaio 1931 a corredo del racconto The Prince of Space di Jack Williamson e del 1935 l'idea che un parassi italiano germini nel corpo di un essere umano Amazing Stories del luglio 1935 nel racconto Parasite di R. Vincent 1939 Amazing Stories fu pubblicato il racconto di The Treasure Truth on Asteroid X scritto da Frederick Arnold Kammer il protagonista della novella è una sorta di emolo di Buck Rogers il capitano Martin Chains alla guida di un'astronave spaziale dopo uno scontro armato con alcuni venusiani il capitano Martin Chains farà atterrare la propria astronave sull'asteroide X alla ricerca di un tesoro l'ambiente dell'asteroide a bassa gravità è pieno di crateri di impatto con meteoriti atmosfera ostile e servono le strade spaziali per visitarlo è noto che da qualche parte giace una piramide aliena che sarà scoperta dal piccolo equipaggio del capitano Martin Chains il tesoro è composto da sei preziosi ceste di radium ma nella piramide ci sono dei marziani che non avranno l'intenzione di mollare il tesoro scoprirà uno scontro con pistole e protoniche ma ovviamente l'equipaggio del capitano Chains avrà la meglio ottenendo l'ambito tesoro il plot è probabilmente la protogenesi della saga di Alien vediamo il perché un asteroide pieno di crateri di impatto con un ambiente spaziale ostile alla vita umana vi ricorda qualcosa? l'equipaggio umano atterra sul piccolo e sconosciuto asteroide in cerca di qualche cosa vi ricorda qualcosa? non è un asteroide ma era diciamo un pianeta comunque vi ricorda qualcosa? un vano alieno conterrà un'indubbia sorpresa per l'equipaggio vi ricorda qualcosa? ci sarà un scontro tra l'equipaggio e degli alieni a presidio del locale alieno nel racconto del 1939 l'esito è positivo ma il plot sarà rimaneggiato da Hollywood generando il contesto della genesi della saga di Alien invece che cercare un tesoro l'equipaggio risponderà da un messaggio radio quello che l'equipaggio cerca non è un tesoro ma troverà un germe alieno ci sarà uno scontro tra l'equipaggio umano ed alieno ed infine mettiamo una cilicina sulla torta del 1949 su Amazing Stories che fu pubblicato il racconto Coffin of Hope di Lee Francis dove nel polo sud un mostro impigionato nel ghiaccio ecco lo stesso scenario di Alien contro Predator il film del 2004 anche il film Alien e la sua saga è una banale permutazione che affonda le proprie radici nelle pulp mugs con questa puntata è tutto un salutone ciao alla prossima